Atti sessuali su minori e ancora una volta questa, la terza nel giro di pochi giorni, l'accusa nei confronti di un'operatrice impiegata in una comunità alloggio per minori con disturbi comportamentali. Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno tratto in arresto Veronica Cusumano, educatrice di 27 anni. Le manette sono scattate perché, scrive la procura, in diverse occasioni abusando della sua qualità di educatrice addetta alla custodia di una comunità alloggio, avrebbe compiuto atti sessuali con un minore di 16 anni, ospite della medesima comunità a lei affidato, con l'aggravante di aver compiuto gli atti all'interno della comunità durante l'orario notturno, mentre gli altri ospiti della comunità dormivano, approfittando dell'assenza di altri operatori in servizio di vigilanza. I fatti sarebbero stati commessi tra gennaio e maggio del 2015. Anche questo provvedimento di fermo è stato firmato dai pubblici ministeri Salvatore Vella e Simona Faga, titolari del fascicolo d'inchiesta con il coordinamento della procura della Repubblica di Agrigento. Quello di Veronica Cusumano segue di pochi giorni gli arresti di Angelo Carmelo Grillo e Mirko Giugno.